Ciao, siccome questo verde mi aveva stancato ho deciso di cambiare look alla mia camera da letto e questo vi farò vedere in questo video. Quindi ti consiglio di restare fino alla fine se vuoi vedere il risultato. Ciao, sono Daniele Iotti, sono il titolare di Arcobaleno Color Lab. Benvenuto sul mio canale. Mi occupo da oltre 15 anni di finiture per interni e per esterni e seguo le imprese, i progettisti e gli amanti dei fai da te per aiutarli a realizzare il loro progetto. Qui troverai video di informazioni, recensioni di prodotti, tutorial e anche magari qualche ispirazione per qualche nuovo lavoro. Quindi una cosa molto importante per aiutarmi ad andare avanti in questo lavoro di pubblicazione video è quello di seguire questo canale e attivare la campanellina. Come ho detto in questo video cambiamo look completamente alla mia camera da letto. In realtà io non farò nulla. In questo caso ho scelto un'impresa che eseguirà i lavori in camera mia e che ritengo adeguata per questo tipo di lavoro. Ora ti spiego cosa ho pensato di fare. Sicuramente cambieremo colore ma svelerò la tinta solo successivamente ma ti scriverò il codice nella descrizione di questo video. Poi andremo a cambiare il battiscopa mettendone uno di ORAC che verrà colorato come la parete come tutte le altre cornici che verranno posizionate. Verrà anche installata una cornice a soffitto e nella parete alle mie spalle userò le cornici di ORAC per creare una finta voiserie. Grazie per la visione! Prima di continuare con il relooking della mia camera da letto con le cornici di ORAC, se questo video ti sta piacendo ricordati di seguire il canale e lasciami un like. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Direi che per questo video sul cambio di look della mia camera da letto è tutto. Ci abbiamo messo un po' di tempo ma ce l'abbiamo fatta. Io sono molto soddisfatto ma sono veramente curioso di sapere cosa ne pensate voi di questo relooking della mia camera con le cornici di ORAC. Quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, le vostre opinioni e se avete domande ovviamente non esitate a scrivere anche quelle, cercherò di rispondervi al più presto e vi ricordo che nella descrizione di questo video ho inserito tutti i prodotti, quindi tutti i codici dei prodotti che abbiamo utilizzato, il codice del colore utilizzato per fare questo relooking e anche per chi fosse della zona l'impresa che ha posato e ha reso tutto questo possibile. Quindi non mi resta che salutarvi e ad aspettarvi al prossimo video. Ciao!